il verbo, dice la Bibbia nel Vangelo di Giovanni capitolo 1 verso 1, nel principio era il verbo, la parola era con Dio e la parola era Dio, se tu non credi che Gesù è Dio ti perderai, Gesù è il vero Dio venuto come uomo, Emanuele, Dio con noi, Gesù Cristo è Emanuele che vuol dire Dio con noi, Gesù non è solo un profeta come alcuni dicono, Gesù non è solo un buon uomo, un buon messaggero, un buon predicatore, Gesù non è un arcangelo come dicono certi bugiardi, Gesù è il vero Dio e la vita eterna, alleluia, l'immagine del Dio invisibile, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, dice Colossesi capitolo 2 verso 9, Gesù Cristo è la rivelazione del vero Dio, , Gesù non è sempre un buon çiv Officaggio è la vita, Gesù da lei, Gesù Cristo è la risposta della può dire Dio, Gesù, Gesùni